Scendere ragusano i numeri dei positivi al coronavirus, nelle ultime 24 ore altre tre decessi, due a Raguse e una a Modica, contagi preoccupanti solo ad Acate. Bilancio accomiso dopo dieci giorni di zona rossa, il sindaco Maria Rita Schemberi tira le somme e parla di un buon risultato, è importante non abbassare la guardia proprio ora. Modica risponde positivamente alle restrizioni anti-covid, lo conferma la polizia locale, su 350 attività commerciali controllate sono stati elevati e solamente 5 verbali. Esordio amaro per la Virtus Club Ragusa che cede il passo al Bologna, partita giocata punto a punto che ha visto i bolognesi imporsi soltanto negli ultimi minuti di gioco. Buonasera e bentornati nel Tg di Canale 74, numeri leggermente confortanti oggi riguardo i contagi da coronavirus in territorio ibleo. Si registra un miglioramento quasi ovunque tranne ad Acate dove invece sale esponenzialmente il numero dei tamponi, risultati positivi. Oggi purtroppo anche tre decessi. 2242 con 16 positivi e il rapporto finale tra tamponi effettuati e positività al covid, nell'ultimo fine settimana contrassegnato dallo screening di massa a Modica. L'ultima tornata si è conclusa facendo registrare quattro positivi, due bambini, un'anziana e un quarantenne, su un totale di 623 test effettuati. A seguito di screening con tamponi drive-in effettuati lunedì al centro della protezione civile di Scicli, è stato riscontrato un caso di positività al covid, facente parte di una classe della scuola media ospitata nel plesso Lipparini dell'istituto comprensivo D'Antoni. Il sindaco Enzo Giannoni, in quanto autorità sanitaria, ha disposto quindi la sanificazione a partire da domani e per i prossimi tre giorni. Intanto oggi i contagi in lieve discesa. I ricoverati sono distribuiti tra Giovanni Paolo II, Maggiore di Modica e Guzzardi. Nello specifico, 42 si trovano al Giovanni Paolo II, 23 al Maggiore e 35 al Guzzardi. Due le persone decedute a Ragusa, un uomo di Ispica di 70 anni e un uomo di Marina di Ragusa di 72 anni. Un morto invece al Maggiore di Modica e si tratta di una donna di 86 anni. Tra i tanti dispiaceri che può recare il covid, ce n'è uno capace di logorarti dentro, quello di non poter dare l'ultimo saluto a un proprio caro. È il caso di una figlia distrutta dalla perdita della propria mamma avvenuta pochi giorni fa al Giovanni Paolo II di Ragusa. I parenti non si rassegnano all'impossibilità di dare un degno saluto ai propri cari con un funerale. Non c'è dignità per i defunti, scrive la figlia. Al pensiero di ciò che capita c'è solo da star male. La figlia, trascrive pure, che nonostante abbia dovuto dire addio alla sua mamma in sole due settimane, era spesso informata sulle condizioni di salute e l'avevano avvertito da subito che era grave. A volte chiamavano i dottori, altre volte i figli. La signora in questione ha avuto un'insufficienza respiratoria e nonostante l'età non aveva altre patologie. La figlia si sente di lanciare un appello a tutti affinché le cose possano cambiare. Rispettate voi stesse e gli altri, infettarsi non è una vergogna, ma il virus c'è ed esiste. C'è tanta ignoranza in giro, continua. Tenere la mascherina non è una dittatura, come ho sentito dire. E sempre parlando di coronavirus, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schemberi, parla dei contagi dopo dieci giorni di zona rossa e lancia un appello. Sentite. I dati che ci arrivano dall'ASP sono confortanti. Dopo una settimana di maggiore controllo sulle uscite dei cittadini di Comiso, sui comportamenti dei singoli e anche all'interno delle famiglie, devo dire che possiamo veramente registrare un calo complessivo dei positivi. Quindi non solo molti si sono negativizzati, ma non sono stati sostituiti da nuovi positivi. Quindi la zona rossa, maggiore attenzione nei comportamenti, sono state fondamentali. Qualunque sarà la decisione della Regione a partire dal 4 dicembre prossimo, io veramente faccio un appello a tutti, perché siamo responsabili ciascuno di noi della nostra salute, di continuare nei giusti comportamenti. È un appello veramente accorato a tutti i direttori e gestori di negozi, ma soprattutto di supermercati. Il supermercato non deve essere l'occasione per una passeggiata in famiglia. Non si può mettere a repentaglio la propria salute, quella degli altri avventori, e soprattutto quella degli operatori e dei cassieri dei supermercati. A fare la spesa si reghi uno solo della famiglia e si eviti in tutti i modi di fare crocchi di persone all'interno del supermercato stesso. I direttori devono poi darmi una mano d'aiuto, esattamente come hanno fatto nella prima fase di questa pandemia tra marzo e aprile, gestendo loro stessi i flussi di persone all'interno dei loro locali. Solo in questa maniera, solo uniti, solo tutti puntati verso un'unica direzione, che è quella dell'uscire al più presto da questo brutto incopo che ci attanaglia, riusciremo a vincere la battaglia. Come sentito, numero contagi stabili nel comune di Modica, dove non si fermano i controlli da parte della polizia locale, sempre impegnata nel far rispettare le restrizioni. Quanto emerso nelle ultime ore è che i modicani si stanno dimostrando rispettosi e rispondono positivamente alle normative anti-contagio. Modica risponde positivamente alle restrizioni anti-covid. A conclusione del periodo in cui la Sicilia era posta in zona arancione, i controlli della polizia locale sono stati costanti. In particolare, sono state controllate 711 persone, sia in transito che residenti, e sono stati contestati 13 verbali per violazione delle disposizioni imposte dal DPCM. In particolare, le infrazioni hanno riguardato gente proveniente da altri comuni senza giustificato motivo. 351 sono state le attività commerciali controllate con la contestazione di 5 verbali. I risultati confermano che i modicani si sono dimostrati molto attenti al rispetto delle restrizioni. Le unità di polizia sono costantemente presenti su tutto il territorio, nonostante le ristrettezze di organico con notevoli sacrifici, considerato che dal sabato alla domenica sono impegnate con cambio sul posto nella zona artigianale dove si effettuano i tamponi. Da lunedì al venerdì sono utilizzate nell'area antistante al polioambulatorio dell'ASPE di via resistenza partigiana. Le pattuglie sono giornalmente impegnate anche nei controlli di gente positiva, al coronavirus o in quarantena, che non viene trovata in casa dagli operatori ecologici, dal momento che i rifiuti di queste persone non sono conferiti con le stesse procedure di quelli normali. Luminari e natalizie in versione ridotta quest'anno a Pozzallo, lo comunica il sindaco Roberto Ammatuna, che continua pur se in maniera ridotta con l'albero di Natale davanti alla casa comunale. Abbiamo voluto lanciare un segnale di speranza per l'immediato futuro, afferma Ammatuna, augurandoci che a breve si possa tornare alla tanto agognata normalità. Ci sarà il momento, speriamo entro pochi mesi, conclude il primo cittadino di Pozzallo, per riprenderci in piena speranza, allegria, nelle festività. A due giorni dal sesto anniversario del piccolo Loris Stival, il padre ha diffuso una lettera per ricordare il suo bambino, ucciso brutalmente a Santa Croce e Camerina, e per la morte di Loris fu condannata la madre Veronica Panarello a 30 anni di reclusione. Ciao Loris, da quel 29 novembre i tuoi occhi e il tuo amore ci sono stati portati via, ma il tuo sorriso non si è spento e illumina le stelle che brillano di notte. Sono certo che da lassù tu ci guardi e continui a volerci bene, sento che puoi toccare il mio cuore e abbracciare i miei pensieri. Lo affermano Davide Stival e il fratellino di Loris, il bambino ucciso a otto anni nel Ragusano sei anni fa. Il messaggio, diffuso dal loro legale, l'avvocato Daniele Scrofani, arriva la vigilia del sesto anniversario della morte del piccolo, per la quale la madre Veronica Panarello è stata condannata a 30 anni di reclusione. Oggi che non sei più fisicamente tra noi, aggiungono il padre e il fratellino di Loris, occupi in ogni istante la nostra mente e il nostro cuore, gli unici posti dove rimarrai per sempre. Ma un giorno, dietro le nuvole del cielo, troveremo i tuoi baci e i tuoi abbracci e potremmo sorridere e gioire insieme. Oggi, ancora di più, tra una lacrima e un sorriso, il nostro pensiero vola verso di te. Ti vogliamo bene. Loris Stival, vittima di un atroce omicidio perpetrato dalla madre che avrebbe dovuto proteggerlo. Oggi sarebbe stato un adolescente. Avrebbe 14 anni e si starebbe affacciando alla sua vita di giovane adulto. I suoi progetti di vita e quelli di suo padre, per lui, si sono infranti nel vuoto di quel terribile 29 novembre, calati nel gelo di un canalone buio. Quello dove Veronica Panarello, sua madre, lo ha gettato dopo averlo ucciso, nel fragile tentativo di nascondere un corpo che è stato invece ritrovato pochissime ore dopo la sua scomparsa. Processualmente parlando, Davide Stival ha chiuso i ponti con la moglie un anno fa, quando la castazione ha confermato la condanna a 30 anni di omicidio per Veronica Panarello. Stival, fin dal primo momento, è stato molto fermo nel prendere le distanze dall'assassina di suo figlio, con una scelta molto consapevole. Non ha mai protetto la moglie di fronte alla scoperta di un fatto così terribile. Da un punto di vista personale, i due però sono ancora legati da un altro figlio, il secondo genito Diego. Recenti sentenze hanno stabilito che Veronica ha il diritto di ricevere notizie del piccolo, tramite lettere e fotografie che ne testimonino la crescita. Ma non può parlare con lui perché ha perso la patria potestà e non c'è motivo di credere che le cose possono essere diverse in futuro. Per un figlio che non c'è più, ce n'è uno che cresce, pensa e si pone domande. Avere la responsabilità di spiegare morte e violenza a un bambino richiede grande intelligenza e maturità e ci spiega il legale Scrofani che questa ora è l'impresa prioritaria nella vita di Davide. Spiegare a un bambino una vicenda così terribile, nessuno, nemmeno ampiamente attrezzato culturalmente, ne sarebbe in grado. Ecco perché Davide è bravo, perché si è affidato agli psicologi, ha cercato con loro quali fossero le chiavi di comunicazione e si è lasciato guidare. Oggi, anche per salvaguardare Diego, la vita degli Stival è completamente diversa. Calata nell'anonimato di una nuova casa molto lontana da Santa Croce e Camerina e dei ricordi dei momenti più bui, la vita di questa piccola famiglia viaggia sui binari giustamente sconosciuti. Davide ha trovato persone generose che lo hanno aiutato, offrendoli un posto di lavoro e aiutandolo nelle prime fasi del trasferimento. Dove sia non si sa, non è solo però, si è trasferito in una zona nella quale non ha nessun legame e con sé si sono trasferiti anche gli zii. Credo che fosse un'esigenza dovuta al voler strappare il piccolino da questa zona dove, bene o male, sarebbe stato riconosciuto per sempre, conclude il legale Scrofani. Un fine settimana segnato da precipitazioni abbondanti in tutta la provincia, ma senza, per fortuna, casi particolarmente gravi. Ilapeggio nel territorio etneo mettendo la città in ginocchio, danni da 5 milioni di euro. Sentite. Un fine settimana, quello appena trascorso, all'insegna della prima vera ondata di maltempo negli Iblei. Tra sabato e domenica si è abbattuta anche nel pomeriggio di ieri che ha messo a dura prova le tenute delle strade urbane ed extraurbane, creando notevoli disagi alla circolazione di tutti coloro che, fino all'orario del coprifuoco, si erano spostati dalle proprie abitazioni. La forte ondata di maltempo è stata preannunciata al Dipartimento regionale della Protezione Civile, che nel pomeriggio di sabato ha diramato un avviso mete urgente con il quale si faceva presente una perturbazione che stava entrando da qualche ora nel Mar Ionio e che la pioggia stava aumentando sui monti del Messinese, Etna e Montiblei, facendo presente una situazione in netto peggioramento. La tromba d'aria ha colpito la zona sud di Catania, il Viale Kennedy, il lungomare della Playa, il quartiere di San Giuseppe l'Arena, San Francesco l'Arena, villaggio Santa Maria Goretti e parte dell'aeroporto. Si registrano danni alle abitazioni, in particolare ai tetti. Oltre 50 le richieste di soccorso è giunta al numero unico di soccorso 112. Interventi e verifiche sono in corso da parte delle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. Uno scenario quasi da film, quello che si è presentato nei quartieri sud di Catania, che dopo la violenta tromba d'aria di sabato notte e il violento nubifraggio ha flagellato il territorio catanese. Coperture di capannoni industriali spazzate vie, recinzioni di velte, alberi abbattuti, case allagate e ampie voragini nell'asfalto delle strade, con ulteriori rischi per gli automobilisti. Secondo le prime stime della protezione civile, i danni ammonterebbero a circa 5 milioni di euro. Il governatore Musumeci ha annunciato la proclamazione dello stato di calamità e ha disposto un'immediata a ricognizione dei danni subiti dalle civili abitazioni e dalle aziende. Le piogge, registrate già nella serata di ieri, lasceranno il posto al sole fino a martedì e le temperature saranno ormai nettamente invernali. Esordio amaro per la Virtus Club Ragusa che nella prima giornata di campionato di Serie B cede il passo al Bologna, partita giocata punto a punto che ha visto i bolognesi imporsi soltanto negli ultimi minuti di gioco, chiudendo la gara con il risultato di 87 a 69 per gli ospiti. Inizia ufficialmente il campionato di Serie B e la Virtus Club Ragusa fa l'esordio tra le mura amiche del Palapadua. Dall'altra parte del campo c'è il Bologna Basket 2016 di Coccio Rota. Entrambe le squadre si affacciano al terzo campionato nazionale con la voglia di far bene e di dimostrare fin da subito il proprio valore. I primi punti dicono Bologna per mano di Felice a cui risponde prontamente il capitano Andrea Sorrentino a cui dà manforte Stefanini che realizza in post basso. Gli ospiti però pressano in aria eblea e cercano a tutti i costi di bucare l'aria avversaria riuscendoci grazie al capitano Fontecchio. Entrambe le squadre mettono il piede sull'acceleratore e si corre da una parte all'altra senza risparmiarsi mantenendo un equilibrio sotto le plance. Solo nell'ultimo minuto della prima frazione di gioco grazie a Kitzing i ragusani riescono a chiudere con tre punti di scarto. Anche nel secondo quarto le squadre si rincorrono in cerca di punti preziosi. Soviero si rende protagonista di azioni importanti sotto le plance cercando di trascinare i suoi ma la Virtus Club Ragusa non sta a guardare e con un'azione di forza di Jurato e Sorrentino tengono i propri sempre avanti di qualche lunghezza. Anche gli anelli e chesseri danno manforte alla squadra riuscendo a penetrare in aria ospite e finalizzando senza troppi intoppi. Conti insieme a Berretta fanno girare palla velocemente trovando il ferro agilmente. I bolognesi cominciano a tallonare i padroni di casa che però cercano di rispingere ogni azione offensiva non senza difficoltà. L'ultimo quarto si gioca a ritmi serratissimi. Nessuna delle due compagini di gioco vuole sfigurare. Jurato dopo un'azione ben costruita da fuori aria mette dentro tre punti che valgono nuovamente il pareggio 70-70. Soviero però ha una marcia in più e riesce a penetrare nell'area eblea portando avanti la propria squadra. I nervi si fanno più tesi e i falli cominciano a fioccare. Si sprecano azioni potenzialmente utili da entrambe le parti. Il gioco si fa sempre più serrato e le due fazioni si tallonano punto su punto. Il tabellone è fermo sempre su una situazione di parità quando mancano tre minuti alla fine dell'incontro. In questi ultimi momenti è scontro diretto tra Mastroianni e Soviero che a suon di canestri cercano di portare avanti i compagni. Soltanto negli ultimi secondi i bolognesi vanno avanti e con una tripla di conti si decreta la fine del match con il risultato finale di 87-96 per gli ospiti. Devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi a cercare e hanno mantenuto l'energia per tutta la partita. E soprattutto nella parte finale l'attenzione è stata sul piano partita e è quello che conta. E' anche ovvio dall'altra parte che prendere 87 punti non ce lo possiamo permettere perché oggi abbiamo fatto canestro, ci siamo cercati e sono stati molto bravi i ragazzi ma dobbiamo sicuramente migliorare difensivamente perché non possiamo permetterci di prendere così tanti canestri. Però ovviamente siamo contenti. Abbiamo visto un Soviero immenso, un Conti immenso, insomma giocatori che fanno la differenza. Allora sì, deve ancora lavorare tanto ma oggi ha fatto una buona partita anche se nei minuti finali poteva gestire meglio qualche pallone ma è il progetto, il programma sulla sua crescita. Quindi adesso lo accettiamo e speriamo di non avere altre situazioni finali in questo modo. Però veramente bravi tutti, dal primo all'ultimo. Ma c'è molto dispiacere, ci troviamo tantissimo a vincere la prima in casa dopo tanti anni in Serie B. Però il campionato è ancora lungo, è la prima partita di campionato quindi avremo tempo per rifarci, aggiustare quello che c'è ancora da aggiustare. Si possono trovare insomma 3.000 scusanti e basta. La mia prestazione sì, buona ma fino a se stessa, non alla vittoria purtroppo. Quindi cercheremo di rifarci. Sono stati loro più lucidi sicuramente alla fine a commettere meno errori perché poi sono stati i dettagli che hanno fatto la differenza. Noi in difesa abbiamo fatto forse qualche errore di troppo, in attacco più lucidi secondo me meno in difesa e abbiamo subito un bel po' di triple che hanno creato il divario tra noi e loro e hanno permesso Borgna di andare avanti e prendere quei 3-4 punti di vantaggio che poi non siamo riusciti più a recuperare quindi dovremmo stare più attenti secondo me soprattutto in fase difensiva ma il tempo per lavorare c'è, per fortuna ancora è la prima di campionato quindi il tempo c'è. Questa squadra dal 25 ottobre non ha mai fatto un impegno di campionato, eravamo in un momento importante di crescita e oggi si è vista chiaramente che ci manca l'abitudine alla partita in tante piccole cose, siamo una squadra che è fatta in un certo modo con determinate caratteristiche, a volte abbiamo fatto bene, a volte abbiamo fatto benissimo, altre volte siamo di meno nelle piccole cose, bisogna lavorare, lo sapevamo, abbiamo provato in tutte queste 11 settimane a dare un'identità, un ritmo, qualche cosa che potesse dare alle squadre una consapevolezza che oggi per alcuni momenti è venuta meno però sono ragazzi che si impegnano, che si allenano, che sono importanti perché hanno una ragusanità che sicuramente ci deve permettere di subito a partita domenica a Crema di poter incominciare il nostro cammino vincendo anche se è una partita difficile in quel di Crema, bisogna essere sereni, merito a Bologna che ha fatto una partita con andamento costante per tutti i 40 minuti e questo le ha permesso di poter vincere però credo che non abbiamo deluso, i ragazzi hanno dato il massimo di quello che potevano fare e questa è una cosa molto importante. Vi ricordo che questa sera alle 21 su questa emittente andrà in onda la partita in replica della Virtus Club Ragusa. La Passalacqua Ragusa perde sul campo della capolista Venezia, le Lagunari sono sempre state avanti sulle ragusane che nulla hanno potuto per accorciare il divario, nonostante la buona prestazione dalle straniere il match si chiude con il risultato finale di 92 a 65 per il Venezia. Nulla può la Passalacqua Ragusa che ancora con pochi allenamenti sulle gambe dopo le note vicenne legate al covid ha ceduto sul campo della capolista Venezia che si è imposta più che meritatamente per 92 a 65, restando saldamente in testa la classifica. Ragusa priva di Capitan Consolini che non è partita per la trasferta perché deve completare alcune visite mediche per l'idoneità dopo i contagi che hanno colpito la squadra e staff e con Harrison che non è scese in capo per la regola delle tre straniere schierate Kujer, Mashal e Tikvic. Le padrone di casa partono subito forte piazzando subito un break mortifero che porta le Lagunari a condurre 31 a 15 al decimo minuto. Le ragusane cercano di restare in partita ma nella seconda parte di gara Bestagne e compagni dilagano. Obiettivamente era difficile dopo sei settimane di stop incontrare la squadra più che in forma, commenta coach Recupido. Loro andavano ad una velocità tripla rispetto alla nostra che avevamo invece solo un paio di settimane di allenamenti. Nonostante questo gap assoluto che devo dire ci sarebbe stato anche se fossimo stati al completo, devo sottolineare che le ragazze hanno lottato quasi tutte e non hanno memollato. Questa è una cosa molto positiva. Adesso il nostro obiettivo è rimetterci in condizione. Detto questo è chiaro che a Broni conterranno i due punti e dunque dovremo cercare di riconquistarli. Ringrazio comunque le ragazze per lo spirito con cui hanno affrontato questa partita. Squadra che non rientrerà dalla trasferta di Venezia proprio perché mercoledì 2 dicembre alle ore 20.30 se la vedrà sul campo di Broni nel recupero della sesta giornata di campionato. Con questa edizione è tutto e vi auguro buona serata.